Buonasera, grazie per essere qui e dico subito il nome Don, mi correggi se sbaglio eh, Don Ache-Elisè Bru, ho detto bene? Tutti e tre i nomi? Tutti e tre i nomi, ho due nomi e un cognome Due nomi e un cognome, bene, Donna-Elisè per comodità, allora dicevo, stavo dicendo prima che la caratteristica di questo viaggio che ci permetterà di conoscere la storia di Donna-Elisè è possibile sintetizzarla in una parola, ribaltamento, anche una parabola, perché la straordinarietà della storia di Donna-Elisè è che lui è partito, è venuto in Italia come clandestino, viaggiando sul classico, purtroppo è triste, barcone degli immigrati e poi come potete vedere dagli abiti che porta, è diventato sacerdote. Allora noi adesso, io per primo sono curioso insieme a voi a casa, di conoscere questo ribaltamento, di conoscere tutte le tappe di questa parabola. Allora partiamo dall'inizio, l'arrivo è stato con un barcone a Trapani nell'agosto del 2000, fuggendo dalla costa d'Avorio, il tuo paese d'origine, per una guerra civile che era scoppiata nel 1999. Cosa stava accadendo in quell'anno nella costa d'Avorio? Che pericoli stavate correndo che ti hanno spinto a questa avventura che poteva essere anche una disavventura? un colpo di stato contro il governo che era lì. Questo colpo di stato ha provocato tanti morti. Da lì che io ho preso questa decisione di andarmi via. E quanti anni avevi? Io avevo 26 anni. E la famiglia? La famiglia, che già era, era già, papà e mamma erano già in cielo. Avevo perso questi due miei cari genitori, mi rimanevano soltanto fratelli, due fratelli di una sorella. Che sono restati lì? Che sono rimaste lì. Io ho dovuto scappare. Ma cosa ti ha dato la forza di comunque di andare verso l'ignoto? Perché si sa benissimo che un viaggio in quelle condizioni non ha certezze. È lì il grande mistero. Orfano di papà e mamma, figlio maggiore di una famiglia. E uno che con questa, in una situazione così drammatica decide di partire. Per me prima di tutto è stata anche la paura. Perché in quanto vivevo in Abidjan, la capitale economica e anche politica della costa d'avore da allora, lì è stato, i giovani erano la presa, i militari che avevano presso il potere. I giovani erano delle prede, no? Delle prede. Venivano costretti poi ad armarsi, immagino io, no? In questi casi succede questo. Ed era una situazione che tu volevi assolutamente evitare. Evitare. E quindi questo viaggio dettato dalla paura e dalla disperazione verso una speranza. Sei arrivato a Trapani, quindi del viaggio ricordi qualcosa di questo viaggio nel barcone? Sono arrivato a Lampedusa. Di questo viaggio nel barcone cosa ricordi? È un viaggio, come lo avevo dato il nome io stesso, il viaggio della speranza. Perché questo viaggio quando si parte dalla Tunisia è come morire. E quando tu arrivi a Lampedusa è risorgere, è un rinascere. C'è un particolare del viaggio proprio che ricordi? C'è stato qualcosa di difficile, di spiacevole? Sì, difficoltà ci sono. Perché siete una barca che può prendere meno di 100 persone e vi trovate più di 200 persone dentro, ammucchiati, ammassati dentro. Lì c'è da chiedere l'aiuto di Dio. Quanto è durato il viaggio al mare? Il viaggio ha durato quasi due giorni. In interrottamento ovviamente, notte e giorno. Notte e giorni. Quindi sei arrivato a Lampedusa. A Lampedusa. Poi da Lampedusa? Da Lampedusa sono arrivato a Trapani. Giunto a Trapani c'è una sola certezza, tu avevi una sola certezza, cioè quella di salire su un treno per Palermo per rivolgerti al centro Santa Chiara. Come mai? Dove era nata questa certezza? Come l'avevi creata? Da Lampedusa? Quando sono arrivato a Trapani, lì ho incontrato alcune persone, ma già anche a Lampedusa il sacerdote d'allora che era lì, io ho vissuto quasi due, una settimana lì, mi diceva quando tu arriverai a Palermo, ho sentito parlare che a Santa Chiara c'è un centro per i migrati. È l'idea, questa idea, questa informazione di questo sacerdote. Quindi tu praticamente sei andato, avevi questo unico obiettivo che ti era rimasto, di spostarti da Trapani a Palermo per raggiungere questo centro Santa Chiara che ti aveva, questo sacerdote ti aveva detto, accoglieva gli immigrati, ma non c'era nulla ancora in te di quello che sarebbe stato il percorso e poi appunto vediamo questo percorso dove ti ha portato. Quindi è stato veramente apparentemente tutto molto casuale. Tutto era casuale, perché nel treno che mi portava è lì che incontra una sora del bel amore, sua Franca, che era in Germania. E qui in questa apparente casualità si comincia a profilare agli occhi umani il disegno divino che c'era su di te, perché in questa apparente casualità si materializza una figura umana che ha un nome ben preciso che tu naturalmente hai scolpito nel tuo cuore adesso. L'hai detto tu adesso, l'hai detto tu prima, Suor Franca. Suor Franca. Per me era la Madonna. Perché che ha fatto Suor Franca? Ti ha visto sul treno. Mi ha visto sul treno, con il rosario in mano, meditando il rosario, si avvicina a me e mi chiede in francese, quale lingua parli? Il francese. E mi dice, anche io parlo il francese, allora possiamo fare il rosario insieme? Io gli dice sì. Tu eri cattolico quindi già? Io ero cattolico. Venivi da una famiglia molto cattolica. Una famiglia molto cattolica. Ho ricevuto soprattutto, io ho ricevuto il battesimo a 15 anni, cioè con la consapevolezza di tutto ciò. Vivevo la mia fede, la semplicità ordinaria di ogni giorno, come mi hanno imparato i miei genitori. Il rosario ogni giorno. Ma prima di arrivare, allora siccome abbiamo detto che tu il viaggio l'hai intrapreso a 26 anni, no? Dalla Tunisia, cioè vabbè dalla costa della Tunisia, quindi praticamente dalla costa d'Avorio in realtà, fino qui a Lampedusa. Prima di questi 26 anni, in questa tua fede semplice ma radicata, no? Perché proveniente anche inculcata dalla tua famiglia. C'era stato qualche sentore dentro di te di chiamata, di vocazione? Bella la domanda. La mia vocazione spesso, mi fanno sempre la domanda, come è nata la tua vocazione? La mia vocazione è nata proprio nel mio paese, all'età di 15 anni, giorno del mio battesimo. Ho fatto il catecumenato che ha durato tre anni. Il giorno del mio battesimo, che domani ricorderò per me l'anniversario che ho bisogno festeggiare, un quadro cristiano, 14 maggio del 1989. Nel giorno del mio battesimo, il prete che mi battesava, diceva, tra di voi c'è uno che per lui oggi è una grazia doppia. Perché il 14 maggio di quest'anno era giorno di Pentecoste. E mi diceva, il tuo nome è Eliseo, Elisee, che ha ricevuto il doppio dello spirito del suo patrone Elia. Anche tu, per te oggi, giorno del tuo battesimo e giorno di Pentecoste, riceve il doppio dello spirito santo. Sappia che Dio ha un progetto per te. Io ero alla fine della terza media. E tu lo sentivi, questo progetto? È da lì che tutto parte. Subito dopo il battesimo, inizio a prendere una coscienza. E l'hai comunicata ai tuoi familiari? Avevi ancora i genitori all'epoca? Sì. I tuoi genitori che hanno detto? Quando per la prima volta ho parlato di questo mio desiderio a mio padre, subito mi ha fermato. Mi ha detto, figlio mio, tu sei il figlio maggiore. Il giorno che io non ci sarò, sarai tu a guidare questa famiglia. Subito mi sono piegato. Ho rispettato la parola di mio padre. La volontà del padre. La volontà del padre. Ma se è la volontà di Dio? Se è la volontà di Dio, nel mio cuore mi dicevo, signore, se questa è la tua volontà, in qualche modo sarà. In qualche modo ci sarà. E quindi allora torniamo invece, quindi lì c'è stata la scintilla. La scintilla è nata il giorno, il 14 maggio del 1989, quando tu hai ricevuto consapevolmente a 15 anni il battesimo. Lì c'è stata già questa prima chiamata che hai messo, hai tenuto silente nel tuo animo per rispettare la volontà di tuo padre. Poi immagino per rispettare anche la volontà dei familiari, dopo che i tuoi sono venuti meno, sono saliti al cielo, perché anche loro ti avranno detto, suppongo la stessa cosa. Anche la mia madre ha rifiutato. C'hai fratelli più piccoli, la sorella più piccola, devi badare a loro. Questo è il tuo compito adesso. Bene, poi abbiamo visto, guerra civile, parti, vieni qui, treno per Trapani, da Lampedusa a Trapani, l'incontro, un primo incontro provvidenziale, su Orfranca, ti vede con il rosario in mano, adesso sappiamo, non a caso, e chiede di poter pregare il rosario con te in francese. Poi che succede? Alla fine del rosario, lei si mette a farmi delle domande. Mi dice dove vai? Sto andando a Palermo. Conosci qualcuno? Io non so, non conosco nessuno. Vado in avventura. Lei prima di scendere mi lascia un biglietto dove era scritto il nome e l'indirizzo completo. Di chi e di che cosa? Sono Franca e mi dice prima di scendere, tua madre che è morta in Africa e tua madre che tu hai incontrato qui. E questo biglietto cosa, dove ti portava? Questo biglietto lei aveva lasciato, perché loro avevano, lei abitava a Palermo, nella comunità del bel amore di Palermo. E lei mi ha dato l'indirizzo per poter incontrarla un giorno, perché lei andava per le ferie. Ho capito. A Palermo, a Palermo inizia a fare vari mestieri, posteggiatore abusivo, lavavetri, badante, lavapiatti in un ristorante. Una domanda sola ti faccio a tale proposito. Come e se, cioè se e come ti parlava Dio in quei frangenti, in quei momenti, immagino così incerti, così duri, così difficili, così anche forse oscuri. Guardi che qui, quando sono arrivato qui in questi lavori, in questi lavori che facevo, è stata la gente stessa che mi vedeva lavorare. Mi ricordo benissimo una signora qui andava a casa sua per fare la pulizia. E mi diceva sempre, non è questo lavoro che devo fare, ma quale lavoro devo fare? Tu devi essere prete, io prete. Mi ripetevano sempre. E perché ti dicevano questo? Perché loro, non lo so. Vedevano in te qualcosa? Vedevano in me qualcosa. Poi, a un certo punto, arrivato a Palermo, c'è un particolare lavoro, occupazione che tu fai, che è quella di lavare e vestire i barboni malati, no? Gli uomini senza tetto. Dal Biaglio Conte. Tu riuscivi a vedere il volto di Gesù in questi fratelli. E come si fa a vincere l'imbarazzo, la difficoltà proprio di relazionarsi con persone che si trovano in una condizione veramente difficile? E la difficoltà si supera amando queste persone. Io mi ricordo quando sono entrato nella missione di fratello Biaglio Conte a Palermo, mi ha accolto lui, mi ha aperto le braccia. È nata la nostra amicizia fino ad oggi perché mi vedeva ogni giorno a messa con lui. Perché lì ogni giorno c'è la messa. Io non perdevo mai la messa ogni giorno. Andavo lì, nella cappella, a pregare con loro. Prima di andare a fare questi miei lavori fuori la missione, andavo la mattina a messa. E dopo la messa, dopo la cosa, uscivo per andare a fare questo lavoro di lavevetri. Quindi traeva il nutrimento proprio dalla celebrazione eucaristica quotidiana, no? Il 29 giugno del 2009, altra data fondamentale, indimenticabile per te, per Don Eliseta. E cioè diventi sacerdote. È ordinato dall'arcivescovo, dal monsignor Salvatore di Cristina. Quale immagine o parola conservi nel tuo cuore di quella giornata? In quel giorno, quella data per me è una data fondamentale nella mia vita. E è avvenuto il secondo cambiamento nella mia vita. Dopo il battesimo, questa data segna anche uno svolgiamento totale. Cambia tutta la mia vita. È vero che umanamente rimango sempre quello che sono, ma c'è qualcosa di più. E questo l'ho vissuto attraverso anche la gente che mi vedeva, che mi aveva conosciuto quando sono arrivato a Palermo. Mi ricordo il giorno della mia ordinazione sacerdotale. La gente, una signora che mi dice, non era lui che faceva il forseggiatore abusivo davanti a casa mia. E allora, signore, sono io. Signora, sono io. E mi ha abbracciato. Per me era una grande gioia. Questa è stata un'immagine bellissima, un'immagine spente. Don Elise, rubiamo alla scaletta solamente un altro minuto. Ma mi interessa chiudere anche in questo modo. Tu oggi sei viceparroco della parrocchia Santa Maria di Altofonte, a Palermo. Cosa chiedi al Signore oggi per te? Io chiedo al Signore soltanto due cose. Una grande umiltà e una grande carità. Umiltà e carità. Sì. Mi sembra che con queste parole che tra l'altro ti mettono e ci mettono in profonda sintonia con quelli che sono gli appelli, gli inviti sempre più accorati di Papa Francesco all'umiltà nella carità. Perché anche l'umiltà senza la carità non sarebbe nulla. Nulla. Come dice, come ha scritto mirabilmente San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Il famoso inno alla carità. Con queste parole, Don Elisè, noi ti ringraziamo per aver vissuto alcuni momenti di questa tua parabola con noi e ti auguriamo che il Signore ascolti questa tua preghiera. Umiltà nella carità. Ma anche grazie a voi che sempre mi date l'opportunità di poter nella mia piccola testimonianza dare qualche voce che c'è la speranza a non mai disperare. Certo. Che Dio ha sempre un progetto su ognuno di noi. E anche qui Papa Francesco insegna, non perdiamo la speranza. Grazie Don Elisè, grazie ancora.